Trovando solo stream sniper che mi stream sniper e vengono a ballare davanti come due coglioni e faccio 500.000 punti a partita anch'io già faccio ma c'è qualcuno che ha raggiunto un migliori di punti non esiste è possibile possibile 24 ore su 24 per un anno no ti devi fare almeno quattro settimane tutto il tempo tra iardare due mesi minimo dal primo giorno al giorno che finisce non devi stare lì 24 ore su 24 e poi devi vedere se sei forte e poi al giorno devi far almeno 20.000 punti e poi se sei forte perché se sei pure scarso non vai da nessuna parte ah beh infatti quello è palese e ovviamente nella cassa etica è uscito il pompa tamburo infatti il mio preferito un po tamburo viola qua no sto scherzando io mi posso fare lo spazio indicarsi sti cazzo ragazzo ti mangio se ci chiedete facciamo lei 7 maggio è il mio compleanno tra cinque giorni a lunedì non so se posso farlo non so vedo non so se il mio amico mi chiede di uscire ma non rifiuterò però sempre se devo scappare sempre se io c'è se io c'è esatto se io c'è esatto raga raga dopo domani e raga dopo domani ci dovrebbe essere come si dice la venerdì in centi però no a me non è arrivata a me non è arrivata cosa io c'ho la coppa di venerdì e me non ce l'ho capito nico sì ma che da coglioni ma non è arrivato un cazzo ieri oggi ma è che mi arrivano solo quei componenti no ma è che mi arrivano solo quei componenti no vero sì per me che arrivano componenti tutte separate sì ma dicono che mi arrivano solo quei componenti lì perché oggi non mi arrivato niente raga mi ricordate lo sai che lo sai che una volta c'era il torneo da play c'è proprio uno per forza da play non potevi giocare da pc ed altre piattaforme tipo eri da xbox non puoi giocare non potevi giocarla io l'ho giocato ho fatto pagare proprio perché ero da merda c'è trovati tutti quelli che spammavano mamma mia che merda la tizia qua è stata fatta fuori quale tizia no che merda dai una volta che lo prendo figa raga io provo volare con questo sopra lì vado in culo non conviene non conviene conviene restare uniti non conviene conviene restare uniti oh mio figlio un altro ladio non c'è granate e due sopra via non c'è non c'è non c'è non c'è ok adesso sto volando devo volare ma raga il pizzega fa tipo un lento strano con un tizio che si chiama exid arca di noi edo stai che giro fatto lo consiglio tipo per fare dei treni in ingolo ste robe allora vai fermo beh praticamente vai dove c'è il città con la mia spinta adesso che potenzia poi vanno alla tripla c'è legno non sono che io ho lasciato anche sono cresciata buono un legno no io ti vedo muovere muovere io vedo muove io ti vedo che anche io vedo che stai muovendo forse monitor spento sei monitor spento ok o ma è da questo tutto un veloci fatto uno coltomato ad 50 che il target è una ricinanza ora ma tu lo scudone sto qua col generale io sono l'unico io sono l'unico che non è full sta scappando il target è a pantano il dono è amato da lui lo scudone quel tizio io sono l'unico che non sono full unico che non è full c'è una funghetta non sono full ancora per foto raga no serve a me dai carne io avevo 90 0 kill abbiamo il nostro target è a pantano il culo spari ah ma siete a cuore sta voi ma no non è vero rimanca 3 due di legno e dai ci coni pilata e qua c'è un bel po' di hut come ad esempio come prema all'esterno di gelù niente qua davanti a me niente qua davanti eh mi manca una parte meccanica per farmi il nonno blu niente qua davanti a me sto incandocci ok posso farmi il nonno blu ragazzi avete parti meccaniche ma ancora ucciso ok ok in solo uh aveva questo qua oro aveva questo qua oro tanta oro tanta oro è stata forte uno con l'ex occhio che sta bruciando tutto dobbiamo andare in zona ma sta parte qua non è toccata un medit mi ha dato questo ma che shift blu qua anche no il bone sì mi spaccolla però in alcuni casi è molto conveniente farsi lo scar invece dal pompa perché se il mic shift con l'arma lì c'è un blu di merda che farà perché spara da chi che spara dietro ma ancora un po quattro minuto sperando il mio l'upper sta sparando il bot il bot il post che sono scosta no cassa normale dopo qui cucù sei un altro blu ti può fare l'arco l'orco che 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 ho sotto target ma ancora la prezzo sicuramente dal pulcino qua sopra Non mi sembra perché il livello di minoccia non si alza Eh, invece guarda ora Sento spare con lo scherzo qua sopra Sento fight da qua sopra Car? Sì, bomba, spazio Aspetta, aspetta, aspetta da andare, aspetta da andare che ho Anche qua? Aspetta Nico, dove sei? Alla dietro Eccolo, vedo qua sopra Un po' indietro Scusate Qua c'è un cittone Ma ancora! Qua in tono lo cito Eh, qua c'è il sangue, Natalia Ah, vieni qua Oh mio Dio 3 minuti Perchè? Ho detto di Non le ha Una non scelta Caroro Non lo ha più Occhio Stai ragazzi Non lo ha fatto uno Non è quello stesso Raga ti riesci a ristarmi? Fasoro aveva E scaroro Che riesci a ristarmi Dove che sei? Dove che sei? Dove che sei? Sono qui sotto Sotto? Grazie Difendi 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 Copri Sto provando a difendere Oh mio Dio Gli spammoni Anche lì Vieni qua Scusate Tu ne venti No Hai C'è tanta gente Però Vendo i medici Ti lascio il giuro Dimmi in tre In arrivo Quando? La verba No 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 Questi stanno In mando Questi stanno In mando Questi stanno In mando Sempre qua Sempre qua Con la roba Con la cagana Io sono tol cazzo Come ha rotto Dai Se riesco a farmi Il medikit Sono a posto Questa qua Dove che mi ha già Cagato Che Sto scappando Anche Sto Guarda 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 Che fastidio Ma Sei Sei Vai Cazzo Perché Lo lanciare Adesso Ancora Ancora Scappi Ancora Scappi Ancora Scappi Non ci Guarda Ciccato Fatto Non mi Ho rubato L'urto Dai raga 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 Io sto L'acchiando Di brutto No La safe Da me Da me Dai Resta fermo Resta fermo E ci lanciamo Subito La shock Qua Raga Raga Da me Non vi dispiace Vabbè Morto Però non siamo in zona Io ho eliminato Quello lì Ha Serrato Da sopra E anche qua Lì sopra Ah quali sono Sta scappando Ancora Venti cieco Avete cinquanta euro Occhio che c'è uno Anche da Da Destra Ma dove siete raga Vengono voi Eh vabbè Io continuo a laggare Ma ragazzi Ho avuto un medico Tra caso 28 1 Mi sembra quello Con l'aracotta Ehi Va bene Dai Nico Nico Eh Merda Cosa cosa Grazie Mi sia Sto diventando Una re No Ma veramente Ragazzi Cazzo Siamo Tre contro Tre contro Uno Perché sono Rimasti Tre team No Perché No Sola Lara No mi sembra Che c'è uno Con cazzo Wajjohnsi Eh ma un capito Sta scappato da sola Con le impulse Con l'aracotta 21 21 e 33 Raga Io direi di pressarmi Malissimo Oh mio più che nasce Con l'aracotta Atterrato a coda Con l'aracotta Con l'aracotta Con l'aracotta Con l'aracotta Oh mio più che nasce 29 No Oh mio Che cazzo Arma Raga Che cazzo Stanno Eh però c'è qualcun altro Oh avete rotto il gas Eh va bene Va bene Va bene Sì Ma certo Ma certo E qua sotto C'è uno in soli in giro 3 contro 1 contro 1 Vediamo altezza Io ho 11 di vita Eh teo 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 Qua si sto curando Ancora Ancora Basta l'aracotta Basta Uccidato ovviamente Va bene Va bene Giacomo 37 Easy Bianco No shield No S'ho bloccato Mezzerba Sau Minchia Che luttano Così ce la mette Ma raga Pushatelo È un pierball 89 Ma perché ti sei buttato Mi ha laggato Minchia Dio Proprio ce la mette Tutta Ma perché ti sei buttato Vabbè Perché stavo scendendo Mi ha laggato Oh mio dio Adesso mi finisce Scendi teo Eh non posso scendere Adesso qua mi fa C'hai o no 150 di vita Dai oh bro Non trollarlo Non sto trollando Nice E su E su E su Anche lo script Easy Teo Facciamo Facciamo un attimo Una personalità Facciamo un attimo una personalità Un attimo una personalità